Anche quest'anno il Comune di Cepagatti, rappresentato dal Vice Sindaco Anarisa Palozzo, ha consegnato 13 borse di studio agli alunni iscritti al primo anno dell'Istituto Statale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, IPA di Villareia di Cepagatti. Insieme al Sindaco Gino Cantoi e a tutta l'amministrazione comunale vogliamo continuare a dare un nostro contributo concreto al diritto allo studio di tutti i giovani che intraprenderanno questa carriera qui nella Scuola Agraria di Villareia. Un segno concreto del Comune per sostenere gli studenti nelle spese scolastiche che riguardano libri di testo, materiale didattico, abbonamento per gli autobus, ma anche un'occasione di promozione dell'Istituto stesso. Alla giornata dedicata agli alberi hanno partecipato anche alcune classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio. La dirigente scolastica poneva l'accento proprio sulla scelta fatta con la testa, con il cuore, senza seguire le mode. Sì, questa è una scuola professionale, un istituto professionale, quindi gli alunni, i ragazzi, terminato questo percorso scolastico, potrebbero decidere direttamente di iniziare la propria attività lavorativa e quindi di cominciare subito a lavorare oppure di iscriversi all'università e proseguire i studi in veterinaria ma anche in lettere. Insomma, non abbiamo più quei blocchi antichi del passato per cui l'Istituto Classico ti portava per forza alla laurea e le altre scuole direttamente al lavoro. Ora, per fortuna, nel 2023 e negli anni futuri, i ragazzi saranno liberi di scegliere, però avere una preparazione professionale gli permette ovviamente di iniziare subito nel mondo del lavoro.